Complimenti per la rete, hai dimostrato segnando che c'è bisogno di tutti, finora non avrei giocato praticamente. Grazie per il complimento, mi voglio scusare perché è ancora il mio italiano nell'altezza di poter fare una conferenza stampata solo, sono felicissimo di aver segnato domenica ma il mio gollo non è il frutto di un'azione personale ma è il frutto di un lavoro collettivo di squadra e quindi ci terrei a ringraziare i miei compagni per quello che abbiamo fatto tutti in campo. Quanto aspettavi questo momento? Un tempo, sono pronto per ogni match, ho aspettato la mia chance, ma la ultima coach. Chieri gli abbia dato fiducia e l'abbia messo in campo e spera di poterlo ripagare con delle belle soddisfazioni. Quali sono le tue caratteristiche tecniche migliori? Uomo d'aria, poi giocare pure Ava? La mia posizione è di attaccare central, ma posso giocare a l'altra o a l'altra o a l'altra. Con la sua head? Sì. Ah, sì, sì. Come si dice? Caratteristiche? Allora ha detto che il suo ruolo principale è quello di attaccante centrale, però che si può adattare sia a destra che a sinistra, le sue caratteristiche che tendono ad essere il gioco aereo e la sua velocità. Senti, ti avevamo visto quest'estate molto attivo, molto bravo quando c'era Ava, poi cosa è successo? Non hai mai avuto la possibilità di esprimerti? Ah, non lo so. Ha detto che lui non sa cosa sia successo, che comunque lui ha sempre lavorato solo e si è sempre tenuto pronto per ogni partita. Voi giustamente ci chiedete la Somma perché non l'ho fatto giocare. Adesso ti devi confermare, dopo il primo gol o devi continuare a farne altri, no? Insomma, speriamo tutti che continui a farne altri. Sì, questo è il mio lavoro. È il suo lavoro, sì. Grazie. Grazie. Buona giornata.